Marco Dallavalle, responsabile dell'area Verona per l'attribitare e titolare di Dottomendita di Verona Centro. 19 anni fa avevo un lavoro a tempo indeterminato, un buono stipendio, delle ottime possibilità di carriera, ma sentivo di non esprimere quello che avrei voluto con quell'attività, al che mi sono guardato attorno, non avevo le idee chiare e ho conosciuto quello che poi divenne il mio titolare, il quale è riuscito a motivarmi dicendomi sì è vero che devi lasciare qualcosa di sicuro, ma puoi rischiare di aver successo, questa frase mi ha illuminato, ho deciso di cambiare e di partire in questa nuova avventura. L'arte di abitare ci ha colpiti per il dinamismo, l'ambiente giovane e propositivo, sempre attento al cambiamento e con la voglia di far funzionare bene le agenzie affiliate. Il raccoltamento del personale, la produzione di immobili, la gestione dei servizi e quindi tutto quello che è il mondo ha supporto del singolo affiliato. Una grande differenza la fa sicuramente il metodo operativo che mette in condizioni fin da subito di far funzionare i nuovi servizi, al fine di farne crescere dando soddisfazione alle stesse linee subito economiche e motivazionali. Spesso si ha da fuori l'idea di un'attività, di una professione facile. Di facile non c'è niente, però mi sento di dire cercate di trovare la voglia di rischiare di avere successo, perché un'attività come questa può dare molto in termini economici, per carità, ma anche in termini di crescita e di formazione personale. È un'attività ricca, varia e che può dare tantissime soddisfazioni. Sono coinvolto in due direzioni, un progetto a livello di rete su Verona e un progetto personale di crescita. A livello di rete contiamo di raddoppiare nei prossimi 12-18 mesi la rete attualmente presente su Verona. Personalmente sarò in apertura entro la fine del prossimo anno con un secondo punto vendita e quindi con un ampliamento di zona e nei successivi tre anni vorremmo raddoppiare questi due punti vendita. Per fare questo serve il personale, servono ragazzi con voglia di fare e con voglia di emergere. Quindi fatemi avanti, credeteci, cercate di trovare dentro di voi la voglia di rischiare di avere successo come è capitato a me. Grazie. 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 Grazie.